Ci vediamo a casa. L'esplosivo utilizzato durante le rapine è C4 di tipo militare. Abbiamo condiviso due missioni in Afghanistan, era artificiale. Mai come ora è importante che manteniamo la rotta, non parliamo con nessuno. Chi è C1, spari contro la polizia! Questi tre rapinatori hanno bisogno di un cecchino. Prendi me e Nox per una rapina e vinciamo tutti. In prima visione Italia 1. Dove lo vuoi? Prendi l'occhio sinistro. Chicago PD, nona stagione. Tu mi sta distruggendo, Gianni. Cosa ti sta distruggendo? Lunedì 21 e 20